50 Salve a tutti i breakers e benvenuti nel vlog di ringraziamenti per i 50 iscritti C'è anche Jack Black che non c'entra un cazzo Ma volevo che ci fosse nel vlog perchè lo volevo Allora, 50 iscritti, ci sono un po' di cose da dire Quanto tempo fa è stato lo speciale 14 iscritti 7 giorni a partire da oggi Sette giorni fa abbiamo fatto 40 iscritti 40 iscritti in 7 giorni 40 Quindi vi ringrazio davvero perchè lo apprezzo Mi apprezzo con tutto il cuore Quando raddoppieremo questo traguardo Mi farò i nuovi programmi e il Shannotti Il play che nemmeno potete immaginarvi Dobbiamo dire Allora hai qualcosa da dire Io direi che innanzitutto delle ricongratulazioni che devo fare a questo bravo ragazzo Che è riuscito ad arrivare a questo traguardo veramente importante per uno youtuber Per uno youtuber che sa le prime armi insomma Però possiamo dire che lui non è più alle prime armi ma lui ha una potenzialità Un ragazzo che ha molto da dare e quindi penso che arriverà molto lontano Io spreco davvero del lavoro, del tempo su ogni video che faccio Perchè ogni video lo devo registrare Lo registro anche perchè non sono in condizioni ottimali Perchè col programma che uso i video escono subito dopo che li registro Cioè io i video li faccio uscire di mattina E come ho detto nel video che ho postato oggi di Sardin Simulator C'è un motivo per cui io rimango a casa Non è di certo fare video su youtube Quello ne approfitto soltanto Io faccio i video anche col mal di gola Con la tosse Ad uccidere la lag A vedere Bobby indemoniato Cristo Dio cosa mi tocca fare Mettere tutte le annotazioni Iniziali Non potete immaginare io che devo mettere ogni volta il link Ogni volta in un'altra pagina Gestione video Prendere il link Ogni volta mettere il decimo di secondo A cui deve iniziare il decimo di secondo A cui deve finire Del video Una tortura ve lo assicuro E verrà fatto anche per questo video Come infatti potete vedere Che se si mette lui qui In questo momento Sulla sua faccia c'è il suo canale Esatto Quindi Cioè Allora porca troia A meno A meno sono ricambiato Anche perchè abbiamo Superato le 300 visualizzazioni E quindi Tanti cazzi Tanti cazzi Io continuerò così Sicuramente Comunque vi ringrazio Tutti e 50 E quanti cazzi siete Farò Farò Il Sergio Simulator È il penultimo episodio Quello che ho registrato Perchè io so già che cosa accadrà Adesso Nell'ultimo Episodio E ne approfitterò come speciale 100 iscritti Penso Comunque Domani Dallo citro di questo video Quindi Oggi è il 30 ottobre Ci è il 30 ottobre Quindi domani è Halloween Porca puttana Non perdetevi nulla Perchè Ci saremo io Jack Black La Power Game Che cotuber Forse Ci sono riuscita Di incassare Tutti quanti Per Halloween Faremo video speciali Di gameplay Ideati da lui Faremo video Speciali Di qualcos'altro Pensato da me Per una sorpresa Che sarà diciamo Un pre speciale E E cazzeggio E registremo Con i cellulari Ciò che faremo Nella festa Subito dopo Ma Se voi Seguite me E Jack Black Non siete Umani Avete qualcosa Che non va E quindi Capirete La gente Che ha qualcosa Che non va Ma La community Va svegliata Cioè per questo Esatto Voi dovete Votarci Dovete votarci Tutti e cinquanta Votate Fateci crescere E noi cambieremo Le cose Mentalità Tutto Tutto Cambieremo Cambieremo Giochi Cambieremo Programmi Noi Faremo A furia di Vaffanculo Dovuti a Cat Mario A lag Eccetera A Dunfer Mario A furia Di spaventi Dovuti a Slenderman Che sono Io vi lo gioco O la vita Reale O la vita Reale Che Non ne idea Ragazzi Non ne idea Che sia dovuto Anche a testi Indemoniati Di Bob Anche Tutto questo Fa parte Del nostro Canale Che sta crescendo Piano piano Io vi ringrazio Per questo Siete Siete fantastici Ho trovato Delle persone Davvero Davvero Squisite Fra di voi E non dico Perché vi ho assaggiato Ho leccato Il vostro sudore Lo dico Per personalità Ho trovato Davvero Delle belle persone Tra i miei iscritti Quindi spero Davvero Che il vlog Mi sia piaciuto Tanti cazzi Ci vediamo La prossima Che non ho idea Di che cosa sarà Ciao Ciao Ciao